Galbanino, coltello, carta. Andiamo a fare la nostra candela con il galbanino. Apriamo il galbanino. Abbiamo il nostro bel galbanino. L'involucro che lo mantiene. Prendiamo lo scottex, lo tagliamo con una striscia, lo pieghiamo e facciamo uno stoppino. Prendiamo la cera, andiamo ad avvolgerla. E ora andiamo ad accendere. Grazie per la visualizzazione, commentate qui sotto, se vi è piaciuto mettete pollice in su e iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti! Ciao!